Temono davvero per il proprio futuro i lavoratori del porto di Venezia che oggi hanno incrociato le braccia per 24 ore. Le loro storie sono diverse, come diverse sono le professionalità, gli stipendi e in alcuni casi anche i contratti di lavoro. Ma il quadro complessivo, seppure con varie sfumature, è omogeneo ed è un quadro di forte incertezza sull'evoluzione che potrebbe prendere il comparto. C'è un attacco trasversale al quadro normativo e noi siamo tutti preoccupati perché il rinnovo contrattuale che di solito avviene prima della scadenza, questa volta invece non è avvenuto così. La paura è sempre presente perché a giorno d'oggi nessun posto di lavoro ti dà certezze, quindi cerchiamo di non stare a guardare che le grandi compagnie che hanno i soldi possono appropriarci di pezzi di Italia che effettivamente a giorno d'oggi è di tutti. Lo sciopero di oggi cerca di tutelare la famosa legge 84-94. Se scardinano questa legge qua il porto va in mano ai privati e siccome si sente sempre dire dalle televisioni e dal governo nazionale che si cerca di tutelare il territorio e il demanio pubblico e le questioni appunto territoriali, cerchiamo di salvaguardarlo con questo sciopero. Non è giusto che andiamo avanti sempre con la preoccupazione di dire domani mattina sto a casa, siamo sempre con le spalle vicino al muro e non abbiamo una forza per andare avanti in poche parole. Non hanno valutato il lavoro usurante, hanno detto che non ci aspetta il lavoro usurante, nel contrario invece che noi operiamo con mezzi gru di banchina, muletti, spola che praticamente usurano. Voglio vedere la gente arrivare a 67 anni in condizioni che sono messe e dopo vediamo chi ha ragione o meno. Questa è la preoccupazione di tanti perché arrivare alla pensione in queste condizioni qua mi sa che non ci arriva nessuno.